cari amici telebari bentornati a tempi supplementari ci congediamo da un notissimo volto televisivo mario sconcerti di sky e introduciamo un tema particolare bello perché perché passiamo da un volto notissimo ad un volto particolare che ha scelto di raccontare una storia bellissima con un libro veramente molto interessante omicidi in pausa pranzo ecco nell'epoca di Andy Warhol dove chiunque inseghe 15 minuti di popolarità abbiamo un'autrice che sceglie uno pseudonimo per staccarsi da un certo tipo di realtà comunicativa e lascia parlare il suo personaggio diamo il benvenuto alla campionessa di vendite su amazon viola veloce la chiameremo così benvenuta ciao buona giornata questa è una prima volta perché viola veloce questo il tuo pseudonimo non ha mai parlato nei radio né in tv eppure il tuo libro un best seller a tutti gli effetti beh diciamo è stato venduto molto su amazon quando ero una self publisher e poi sono stata acquistata da mondadori e ho venduto ancora le copie cartace e però non ci ho mai messo la faccia questo no ecco la cosa più simpatica oltre al book trailer chiamiamolo così e ringrazio la regia oggi composta da giuseppe michele alessandra oggi un bel tridente per noi a tempi supplementari rimaniamo in tema calcistico e che insomma nel tuo libro si racconta forse l'ossessione più segreta di milioni di italiani sbarazzarsi di un collega in pausa pranzo sì c'è qualche cosa di indicibile nel desiderio di non vedere più qualcuno che non ti sei scelto che è nella tua stessa stanza e a cui magari sei antipatico per dei motivi a te assolutamente impescrutabili e sai che non puoi farci nulla perché quello il tuo lavoro ti pagano e quindi ti rimane solo un desiderio notturno vagheggiato inconfensabile contrario al codice penale che è quello di dire ma se tornassi dalla pausa pranzo e la trovassi morta in bagno stecchita ammazzata da un altro non sarei contenta ma tra l'altro la risposta è stata sì immagina bruno vespa con questi plastici tu immagina il bagno questa corda bianca intorno al corpo perché proprio bianca io già mi immagino una una realtà che potrebbe magari superare la fantasia tra i primati di viola veloce c'è quello di aver scritto di fatto il primo aver descritto un personaggio che diventa un serial killer all'interno di un contesto aziendale che forse risponde ad un'altra statistica che ci viene spiattellata ad ogni estate in ogni telegiornale su ogni giornale la gran parte degli italiani non è propriamente soddisfatta del lavoro che fa si può dire sotto certi punti di vista che sia anche stata una maschera questa per poter raccontare anche un non un disagio diciamo ma una forma di lamento che ogni tanto serpeggia anche nel nel mondo della comunicazione ovvero quello del problema lavoro per gli italiani ma guarda io penso questo il diciamo i luoghi di lavoro assomigliano al paese nel quale si abita allora l'italia è uno strano mix di iper burocrazia gerontocratica vecchiotta dove i maschi vecchi sono al potere dove alle donne viene lasciato poco posto se poi sono racchie ancora di meno se poi sono zitelle non le vuole nessuno ecco per cui io penso che l'italia sul posto di lavoro assomiglia all'italia che noi vediamo tutti i giorni no e quindi io volevo raccontare la storia di una un po racchiona perché la protagonista è una ragazza di quasi 40 anni che non si è sposata che non è bellissima che non è nessuno ma che però è buona è una brava persona e fa fatica a trovare il suo posto in un mondo come quello che già appena descritto quindi è un romanzo sui deboli diciamo sono gli sfigati wilde diceva le donne belle agli uomini di poca fantasia io leggendo il libro non ho praticamente notato molto diciamo quell'aspetto della protagonista ma mi ha colpito la capacità di raccontare e di narrare una vicenda ripeto che di fatto nasconde un sentimento diffuso nel nostro paese ovvero quello di non essere perfettamente identificati nel lavoro che si svolge quello che tu mi vieni a dire conforta la mia tesi oltre a confutarla ovvero viola vorrebbe fare altro forse cioè vorrebbe trovarsi in tutti i posti meno che in quello è una parola dura quella da dire cioè il no è sempre una affermazione molto difficile dire sono stufa non ce la faccio cambio vita me ne vado quasi nessuno è capace di farlo e quindi tutti in qualche modo lo fece Bettino Craxi però quello che io voglio dire è che in realtà secondo me la mancanza di energia che c'è in Italia che è travisata da questa finta giovinezza del premier che però elegge un capo dello Stato che sembra un fantasma sbiadito ecco diciamo tutte queste cose qua secondo me soffocano la creatività degli italiani che sono invece un popolo di santi navigatori inventori e sono fondamentalmente pieni di fantasia ma siamo soffocati da questa coltrina da questa specie di classe politica vecchia i vecchi ma quelli veri che sono dappertutto ricordiamo inoltre piccolo dato statistico giornalistico il primo direttore del Corriere della Sera aveva 23 anni il primo inviato 22 con questo non voglio praticamente creare una rivolta non voglio diciamo i giovani turchi non voglio i giovani italiani ma voglio semplicemente dire che il nostro paese forse come ci suggerisce Viola avrebbe bisogno di quella spinta che sembra non arrivare neanche da chi insomma avrebbe tutte le occasioni per poter rilanciare proprio in un momento di crisi il vero made in Italy ovvero le grandimenti e i grandi ragazzi che studiano che purtroppo di anno in anno vanno via tra l'altro c'è una campagna bellissima per cercare di fermare gli emigranti intelligenti ovvero i neolaureati che scappano all'estero e che purtroppo devono dire bella ciao c'è una cartellonistica pubblicitaria molto interessante ed intelligente su questo quanto c'è di cinismo in Viola che c'è anche nella vera insomma autrice del libro Oddio una domanda difficile perché Cioè quando ti arriva il pollo prendi subito la parte migliore o aspetti che qualcun altro lo prenda? Quando arriva la frutta fresca ti prendi gli acini più grandi dell'uovo oppure voglio capire se c'è Non sono capace non sono capace però quello che io credo è che si possa essere deboli e cioè gentili educati delle brave persone senza per questo soccombere e diventare delle vittime no? Ecco quindi io vorrei che chi prende le ali del pollo possa avere un posto decente nella vita Nei paesi anglosassoni la gentilezza è assolutamente necessaria nei rapporti con le persone Ecco quello che invece ritengo è che in Italia ci sia una specie di aggressività mascherata da ferormonico potere che ha soppiantato quelle che erano le belle relazioni che ci sono state vent'anni fa, trent'anni fa eravamo molto più vitali di oggi, eravamo la settima potenza industriale al mondo I sana vaffa di una volta erano alla base diciamo di un rapporto amicale stabile, forte oggi invece si litiga via whatsapp o via internet Salutiamo i vegetariani che ci odieranno per la battuta sul pollo che ho fatto E salutiamo soprattutto Viola Veloce, complimenti perché è dimostrato che senza dire il proprio nome e cognome si può nella società che consuma e brucia tutto conquistare il pubblico semplicemente con le cose che si dicono e si scrivono Grazie A presto, buona giornata Grazie a Viola Veloce Grazie a Viola Veloce